Che bacchetto è sto qua? Questo qua è... 40 euro però è in acciaio C'è un video Un canno! Respiro! Dai Mauro che mi si baglia tutto! Marcello non Mauro! Dai muoviti cazzo! Quanta gente c'ho? Mi ha detto? Però non sono mai appoggiato Una racchetta Una racchetta che si scompa Eh sì È solo l'attacco C'è l'attacco da solo Devo comprarmi quelle così Solo che... Il problema dell'attacco da solo È così che sia un po' fragile Dai dai! Dai Marcello! Ali Marcello Dai Marcello dai Dai Marcello dai Ale Sì cazzo! Dai Marcello grande! Dai! Di qua! Grazie! Sì! Massa! Vizio stavare! Dai! Au! Ahahahahahaahaha